Cari amici che come me state dalla parte del gusto, un saluto da Nat russo. Oggi voglio parlarvi dei PAT, prodotti agroalimentari tradizionali italiani. C'erano una volta le sigle nazionali IGP e DOC, poi venne la DOCG, seguita dalla europea DOP. Per non essere da meno i comuni si inventarono anche la DECO, denominazione comunali, e i privati risposero con i destretti Slow Food. Tante sigle, tante authority, tanti comitati, tante bocche da sfamare, mi si passa il termine vista la tematica, tanti soldi spesi, poco onore. Ci scapperebbe da dire con Totò e io pago. Ed allora tutto questo can-can ha portato ad un avanzamento tecnico dell'agricoltura italiana, ad un miglioramento delle condizioni di lavoro nelle campagne, ad un maggiore reddito dei contadini, ad un migliorimento della quantità e della qualità delle produzioni, ad una filiera commerciale più sicura? Ma qualche volta sì. Ed allora, dopo il mugugno, cosa propongo? Semplice, i prodotti agroalimentari tradizionali italiani, in sigla PAT. Sono prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il mitico MIPAAF, con la collaborazione delle regioni. Il requisito per essere riconosciuti è quello di essere ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni. L'aggiornamento e la pubblicazione annuale dell'elenco sono a cura del Ministero, che ha anche il compito di promuoverne la conoscenza a livello nazionale e all'estero. Nel 2019 in Italia sono presenti 5128 prodotti PAT. Si tratta della più grande biodiversità alimentare del mondo. La regione che detiene il maggior numero di PAT è la Campania, 580 specialità registrate. La Liguria comunque non se la passa male, sta a 296 e, scusate se è poco per una regione piccola. Ma quanti chef, compresi tutti quelli stellati, ne conoscono l'esistenza e ne fanno pratica concreta? Troppo pochi. E quindi? Beh, si è creato in questi giorni un gruppo di lavoro composto da realtà associative e commerciali diverse, coordinate dall'assessore al commercio del Comune di Savona per l'estimento della tradizionale fiera di San Bartolomeo del Bosco di Settembre Verde. Mi auguro che queste due occasioni siano quelle buone per la divulgazione e rilancio dei PAT e che sulle bancarelle si possano trovare essenza di lavanda, frizze, mostardella, salame genovese di Olcese, salsiccia di Brugnato, brus della Valle Arroscia, formaggetta di Stella, prescincea, giuncata, sarazzo, toma di mendatica e poi borlotto di mangia, il senerin della Valdivara, i fichi figalini neri, il melo ruginin, il nocciolo tapparona, la patata quarantina bianca, il pesco birindella, il pisello nero di Del Lago, le susine fiaschette d'Occhio Amau di Levanto, ed è troppo sperare che nei ristoranti prendano posto stabile nei menù, barbajuai, testaroli, musciamme, preboggiung, corsetti, gattafin, mesciua, barò, bagnon d'acciue, zeraria, pissalandrea, torta di risodosa di vezzano, spungata e torta di torriglia? Ma speriamo che non sia una pretesa eccessiva. Per oggi è tutto, un saluto da Nat Russo, a presto.